Con l'arresto di 10 persone esplode anche a Catania lo scandalo sui corsi di formazione. La Guardia di Finanza a seguito delle indagini è convinta di avere scoperto una vera e propria organizzazione finalizzata all'illecita percezione di contributi nazionali e comunitari per circa 9 milioni di euro destinati alla realizzazione di 112 corsi di formazione. I reati contestati a numerosi indagati sono a vario titolo peculato, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, corruzione, falso e frode fiscale. I provvedimenti restrittivi, alcuni dei quali ai domiciliari, sono stati emessi dalle GIP su richiesta della Procura. La custodia cautelare in carcere è scattata per Giuseppe Saffo e per il nipote Francesco Cavallaro. Disposti i domiciliari per Concetta Cavallaro, Manuela Nociforo, Eleonora Viscuso, Domenico Laporta, Rosa Maria Trovato, Giuseppe Bartolotta e Biagio La Fata. Il GIP ha anche disposto il sequestro di beni per circa 3 milioni e 700 mila euro. Gli enti coinvolti nell'inchiesta sono l'Associazione Nazionale Famiglie Emigrati, l'ANFE, l'Istituto di Ricerche e Applicazioni Psicologiche e Sociologiche IRAPS, l'Associazione Nazionale Famiglie Emigrati Siciliani, ANFES, e l'Istruzione Servizi Sport e Volontariato Italiano e Regionale, ISVIR, tutti con sede a Catania. Le indagini hanno anche interessato un funzionario della regione siciliana in servizio all'Ispettorato Provinciale del Lavoro del Capologo Etneo che avrebbe revisionato i rendiconti degli enti e avrebbe, secondo l'inchiesta, violato le regole di controllo in cambio di incarichi a congiunti in enti interessati dalle indagini.